Alfieri, come ha trovato Clusone? Sono realtà molto interessanti per il Partito Democratico, il Partito Democratico di Renzi, un partito che sta cambiando, che vuole stare sul territorio, vuole ascoltare i bisogni quotidiani delle persone, non perdersi in discussioni inutili e soprattutto uscire dai comuni capoluogo, dai grandi comuni, che il centrosinistra ha sempre amministrato, ne governa la maggioranza in Lombardia. Vogliamo invece ripartire da realtà più piccole, delle province che sono state considerate perse dal centrosinistra sbagliando in passato, quindi la nostra attenzione è ripartire proprio dai territori, istruire l'alternativa alla destra nel 2018. Con Renzi stiamo provando a cambiare il paese, stiamo provando a cambiare l'Italia, vorremmo provare a cambiare anche la Lombardia, quindi con una maggiore attenzione a fianco ai nostri amministratori locali, che oggi sono in grande difficoltà, lo sono anche gli amministratori locali di questi comuni, con il patto di stabilità, con i soldi che magari riescono a risparmiare e non riescono a spendere per le opere pubbliche, per le strade, per asfaltare, per sistemare le scuole dove vanno i nostri figli. Attenzione alle cose concrete di ogni giorno, come funzionano le mense scolastiche, i servizi sociali. Qui mediamente si sta bene, ma la crisi si fa sentire, quindi ci vuole un'attenzione nuova, ci vuole uno strumento, risorse, e non si può pensare di prendere queste decisioni solo stando chiusi al pirellone, bisogna girare sul territorio, bisogna stare a fianco dei nostri amministratori locali, ascoltare quello che ci dice la gente, e dare risposte efficaci e concrete, come sta provando a fare Renzi a livello nazionale, vogliamo fare noi a livello locale e Lombardo. E quali potenzialità è intravisto in questo territorio? Noi discutiamo tanto dell'Expo del 2015, dell'esposizione universale, che mira a portare 20 milioni di visitatori in Lombardia. Io penso che i territori più interessanti, anche dal punto di vista dell'attrattività turistica, e anche della presenza di strutture ricettive, devono essere interessati a quell'evento, devono mettersi in rete. Adesso non ci sarà più la provincia, sono i comuni insieme, in forma associata, che devono costruire dei progetti per poter agganciare una parte di quei turisti che verrà dal 1 maggio al 31 ottobre del 2015 in Lombardia. È una sfida che possiamo combattere insieme, costruendo delle occasioni in cui i comuni, le amministrazioni locali, le comunità montane, lavorano su progetti condivisi. Quindi no alla litigiosità, si vince quella partita se si gioca insieme, mettendo insieme le grandi potenzialità che ha questo territorio.